In onore di questo periodo importante, ricordando la nascita del Salvatore Gesù Cristo, condivido ciò che so di Lui e della Sua missione in questa terra. Secondo le credenze della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dei ultimi giorni, le scritture dicono che Egli fu preordinato prima della fondazione del mondo. In Efesini 1, versetto dal 3 al 4. Ad essere il nostro redentore o liberatore dal peccato e dalla morte fisica. Satana era stato preordinato a essere il nemico, come si evince nell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 9. Grazie al piano di salvezza avanzato dal Salvatore, noi tutti possiamo godere del libero arbitrio e sviluppare la capacità di scegliere tra il bene e il male. Un'altra scrittura che si ignora spesso è in Ebrei 1, versetto 2, dove si spiega chiaramente che Gesù creò i mondi per ordine di Dio Padre. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono separati e distinti, ma sono tutt'uno nello stesso tempo. Hanno lo stesso scopo di salvezza sull'anima. Durante la vita terrena, molti profeti antichi avevano visioni sulla venuta del Cristo. Un agnello veniva sacrificato nel Tempio, a simbolo del sacrificio futuro del Salvatore. La sua nascita, in modeste condizioni dentro una stalla da genitori semplici, ha aperto la porta della sua missione nella Terra, in un periodo e in un luogo dove i Giudei strinsero l'alleanza con i Romani, che avrebbero protetto in cambio di tributi. Esisteva la libertà di culto, purché non si dicesse male della divinità mitoneogica, che era tanto cara ai Romani, e i loro altari non fossero profanati. Giovanni Battista e Gesù furono annunciati dall'angelo Gabriele. La geniologia di Gesù era legata ai Giudei, cioè alla famiglia reale di Davide, ma il governatore dei Giudei era un funzionario romano, e non da Giuseppe il Palename. I Giudei non erano indipendenti, quindi rimane il fatto che Gesù apparteneva a questa nobile discendenza, dato che nacque da Maria per il potere dello Spirito Santo e fece parte della famiglia di Giuseppe. Il bambino Gesù fu circonciso per tradizione dopo otto giorni dalla nascita, e non dimentichiamo che Gesù significa Salvatore. Molte persone che incontravano il bambino Gesù riconoscevano già il suo carattere divino. L'avversario Satana ebbe fin dall'inizio un piano di istruzione, influenzando il re Erode, che cercò di ucciderlo, ma non ci riuscì grazie alla fuga strategica di Giuseppe e Maria. Gesù fu benedetto durante il suo periodo di infanzia, e gli cresceva e si fortificava, ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. Gesù studiò molto le scritture da buon giudeo, e dall'età di dodici anni si rivelò come un prodigio, parlando al Tempio ed insegnando ai dottori della legge. Quando si face battezzare dal cugino Giovanni Battista, egli dimostrò quanto è importante l'alleanza battesimale ed il ricevimento dello Spirito Santo. Gesù fu tentato quando andò nel deserto. Il fatto è molto simbolico, paragonando mentre l'uomo vive nel deserto della propria solitudine e tristezza, Satana si vuole insidiare con il peccato per portare in precità, senza di colpa, paure e vergogna. Il miracolo di Gesù Cristo, i suoi insegnamenti, potrebbero essere stati ostacolati dalle forze del male. I nazareni tentarono anche di ucciderlo, ma lui continuava a benedire persone, ad esorcizzare e a guarire. Anche le accuse di blasfemia non lo fermarono. Lui continuava a organizzare la chiesa, chiamando i suoi discepoli come pescatori di uomini. I giudei lo accusavano sia per la questione della violazione del sabato, sia per le affermazioni con il rapporto sacro che aveva con il padre. La rabbia dei parisei era talmente aumentata che essi fecero alleanza con i erodiani per cospirare la sua morte. Gesù era consapevole dell'opposizione continua che Satana metteva nei cuori di queste persone deboli di animo. Intanto i dodici o posto li venivano chiamati e il solo requisito che li accumulava era la novità, la volontà di servire e la semplicità. Sicuramente erano grandi lavoratori. I grandi insegnamenti sulle beatitudini e la preghiera furono arricchite dalle parabole del seminatore, il grano delle dizagne, il seme che cermoglia, il grano di senape, il levito, il tesoro nascosto, la perla di gran prezzo, la rete del Vangelo, la pecorella smarrita, il servo malvagio, il buon samaritano, il giovane stolto, il fico sterile, la grande cena, la pecorella smarrita, il figlio prodigo, la dramma smarrita, il fattore infedele, i servi inutili, il fariseo, il pubblicano, i lavoratori, eccetera. Tutto questo a dimostrare un maggiore amore con un'altra opportunità di apprendimento, senza essere troppo diretto ed innescare eventuali dibattiti che avrebbero fatto perdere lo spirito durante le conversazioni. Gesù continuava a mostrare il suo messaggio di salvezza dal peccato, compendo miracoli ai ciechi, muti e storpi, restituendo la vita ai morti e perdonando i peccatori pentiti, mentre i dodici furono destrati e andarono in missione. Cinquemila persone furono miracolosamente nutrite e Gesù aveva un potere sugli elementi, camminava sulle acque, ma nonostante tutto, questo potere predisse la sua morte e resurrezione. Questo faceva parte del piano per vincere la morte con la sua resurrezione e compiere l'espiazione che è un processo doloroso per immolarsi contro le forze del male. Il Signore, vistori il Tempio spesso, ed ebbe sempre il coraggio di correggere i scribbi e i farisei. Egli fu frainteso come un sovvertitore della verità e un trascinatore di uomi alla rivolta politica contro il sistema. I capi sacerdoti trovarono qualche falsa pessimonanza per farlo morire. Durante il processo illegale, svoltosi fuori dai canoni e dalle procedure ordinarie. Quindi fu condannato reo di morte solo perché si dichiarò di essere il figlio di Dio quando gli disse «Da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire su nuvole del cielo. Le forze del male agirono nelle menti delle autorità locali che dimenticarono il velo spirito della legge, l'amore e la carità». Che cos'è la carità? In Corinzi 13 leggiamo che la carità è paziente, benigna, non invidia, non si panta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca i propri interessi, non si inasprisce, non sospette il male, non gode dell'ingiustizia. Ecco, Gesù era tutto questo, gioendo della verità e soffrendo ogni cosa, credendo ogni cosa e sperando ogni cosa, sopportando ogni cosa. La carità e il puro amore di Cristo Satana è fuori da questa concezione manipolando le menti di molti che portavano Gesù alla morte. Ma, ripeto, ciò era previsto. Gesù avrebbe tranquillamente respinto tutto il male con i suoi poteri, ma ha fatto qualcosa che noi non comprendiamo del tutto. ha sconfitto la morte e risorto, aprendo la porta della resurrezione a tutti gli esseri umani, come descritto nell'Apocalisse, quando egli ritornava per la seconda volta. Vi invito anche a leggere la parte dei libri di Mormon, dove egli apparve a questo antico popolo, che la storia conosce come il periodo degli Incas, Maya e Aztechi. Leggete Tre Nefi, capitolo 11, nel Libro di Mormon e insegna il Vangelo a questa gente. Un'altra parte importante sulla storia di Gesù Cristo è quando apparve al giovane Joseph Smith nel 1830 per organizzare la sua chiesa nuovamente e risolvere il grande problema dell'apostasia, restaurando il sacerdozio autentico sulla Terra in preparazione della sua seconda venuta oggi. La chiesa di Gesù Cristo dei Santi di ultimi giorni ha la stessa organizzazione che c'era ai tempi di Gesù con i dodici apostoli e settanta. Il battesimo e le ordinanze di salvezza vengono celebrate attraverso il sacerdozio restaurato. I membri della chiesa sono persone semplici, volentrose e disposte a imparare. Un poco come i apostoli quando avevano questo requisito ed erano stati chiamati dal Signore, ma persone anche modeste, pescatori, persone semplici. Non sono le persone migliori come non lo erano gli apostoli. I membri della chiesa sono stati chiamati in questi tempi e seguono la guida dello Spirito Santo nonostante le imperfezioni di carattere. L'orgoglio è un problema della società che può ostacolare il programma della chiesa e può essere presente sia dentro che fuori della chiesa. Tutti i figli di Dio, sia membri della chiesa, e sia membri della chiesa hanno la responsabilità di prepararsi umilmente, mettendo l'orgoglio da parte e seguendo i suggerimenti dello Spirito Santo perché il giorno è vicino ed è necessario essere pronti ad accogliere la seconda venuta del Salvatore Gesù Cristo. Questa volta con una missione diversa, la separazione ufficiale del bene dal male, dei corrotti dai giusti, dei peccatori dagli obedienti. Sono grato di questa verità e condivido la mia testimonianza per questo. La chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che ha risolto il grande problema dell'apostasia grazie alla risoluzione del sacerdozio presenta delle verità importanti che sono state interpretate in modo confuso da molti filosofi. Prima di tutto, il Cristo è il primogenito e non è figlio dello Spirito Santo ma è figlio di Dio. Egli non era un essere reincarnato ma prese il suo corpo di carne a Bethlehem mentre prima di allora fu il creatore di questo mondo quando era in spirito. Dietro il comando del Padre nella Bibbia troviamo diverse predizioni dell'avvento e della missione di Cristo. In Genesi 49, versetto 10 Giacobbe parlò dell'evento di Shilok che è Gesù Cristo. Il sacrificio dell'agnello, per esempio, senza difetti nella celebrazione della Pasqua. di Israeliti era una rappresentazione evidente del sacrificio di Gesù Cristo. Anche Adamo e Noè praticarono questo. Settecento anni prima della nascita di Cristo Isaia predice la sua vita e lì era descritto come un uomo normale un uomo di dolore che ha portato il peccato di molti ed ha interceduto per i trasgressori. Gesù rappresenta il Mediatore tra noi e il Padre fino a quando Adamo ed Eva la lasciarono nel giardino di Edel. Il Geova del Vecchio Testamento è il nostro Salvatore. Egli parla con Abramo, con Noè, Enoch, Mosè e tutti gli altri profeti. Egli è il Dio di Israele. Il profeta John Smith fece una revisione su Esodo 6, versetto 3 dove si chiarifica che Dio Onnipotente era Geova. È evidente che Egli parla come se fosse il Padre. Perché tutto questo? Non dimentichiamo che Adamo ed Eva lasciarono nel giardino dell'Eden e non potevano stare più alla presenza di Dio. Così vale per tutta l'umanità. E da quel punto in poi subentra la figura di Gesù che intercede, comunica con il Padre per noi. Infatti, noi membri della Chiesa preghiamo nel nome di Gesù Cristo e ci rivolgiamo al Padre. Un altro accorgimento importante che conferma un dato di fatto ricordando la storia della prima visione di Joseph Smith che vide Dio Padre, Gesù Cristo come due esseri distinti e parlò solo con Gesù dopo che Dio presentò appunto Gesù stesso. Il Salvatore rispose alla domanda di Joseph e dette le necessarie istruzioni Un'altra situazione notevole è la dichiarazione di Re Beniamino nella storia del Libro di Mormon in Mosia 5, versetto 7 nel definire Gesù come nostro Padre perché rinasciamo spiritualmente grazie alla sua espiazione per i peccati del mondo. In Dottrina Alleanza 93, versetto 1 al 5 Gesù si dichiara Padre Effettivamente egli riceve la fierezza di gloria del Padre ed ha creato i cieli, la terra e tutte le cose. Come è descritto sia nella Bibbia che nei Libri di Mormon parliamo adesso dell'immortalità. Non fu solo Gesù che risorse le tombe si aprirono e molti corpi dei santi apparvero a molti come Matteo spiega nel capitolo 27 versetti dal 52 al 53 Solo Gesù poteva avere il potere sulla morte cioè il dono della vita in se stesso Noi tutti possiamo risorgere e superare la mortalità grazie a Lui Così egli ricevette la sua pienezza di essere un Dio dopo la sua mortalità e vita nella terra dove aveva un corpo soggetto al dolore come tutti noi lo abbiamo adesso Dopo la sua resurrezione e trasformazione in essere immortale e glorificato stessa cosa varrà per coloro che per fedeltà divengono figli di Dio I nostri corpi sono essenziali per la pienezza e la continuazione dei nostri posteri in eterno come diceva il profeta Joseph Philip Smith in Doctrina di Salvezza nel capitolo 2 La storia di Gesù è autentica Anche i suoi nemici ammettono che è i vis Il libro di Mormon dimostra che Cristo è vissuto oltre le testimonianze del Deco e del Nuovo Testamento anche i moderni profeti hanno venuto Cristo Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Ritner e altri testimoni del mondo Il 3 aprile 1836 Joseph Smith, Oliver Cowdery si trovarono alla presenza del Signore Gesù Cristo nel Tempio di Kirkland e ne odirono la voce Lo stesso successe il 16 febbraio 1832 a Joseph Smith e Sidney Ritton Il Signore dichiarà a tutto il mondo Ogni anima che abbandona i peccati e viene a me e invoca il mio nome e obbedisce alla mia voce e osserva i miei comandamenti vedrà la mia faccia e saprà che io sono Questa è una dichiarazione bellissima In conclusione vorrei trattare dell'ultimo argomento sul regno di Dio sulla Terra Quando Cristo ritornerà per la seconda volta e in veste ufficiale tutti i popoli della Terra gli saranno soggetti e egli avrà il domino su tutto il mondo Durante il millennio l'unico regime politico che regnerà nella Terra sarà quello di Gesù La Chiesa di Gesù Cristo regnerà per sempre sulla Terra cioè il regno politico sarà dato alla Chiesa Durante il millennio dice il profeta Joseph Smith in dottrina di salvezza volume 1 capitolo 14 tutte le persone che non fanno parte della Chiesa saranno governate e molti dei loro governatori che saranno eletti potranno essere membri della Chiesa oggi La Chiesa è organizzata in questa dispensazione è un piccolo numero di di esseri umani siamo pochi milioni cioè siamo alle porte del millennio o della seconda venuta di Gesù Cristo La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è stata organizzata il 6 aprile 1830 a New York con sei membri tra cui ovviamente Joseph Smith che fu il leader chiamato reggente, traduttore profeta, apostolo di Gesù Cristo esanziano della Chiesa Dopo qualche mese in giugno ci furono le prime conferenze dopo circa un anno dall'avverimento si ordinarono i primi sacerdoti della Chiesa sono al sicuro i giovani di Sion rimarranno fedeli alla Chiesa e la Chiesa progredirà sempre anche in prosperità il regno di Dio sulla terra è unito e trionferà trionferà gradualmente nonostante i poteri del diavolo sono evidenti massicci la Chiesa di Gesù Cristo che oggi presenta pochi milioni di membri trionferà alla seconda venuta di Gesù Cristo grazie alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori